A nome delle loro organizzazioni sindacali, i segretari generali di CGL CISL, Sandro del Fattore Giannino Taro e il membro della segreteria regionale Will Pasquale Guarracino, hanno voluto esprimere in una conferenza stampa tutto il loro rammarico circa l'operato del presidente Frattura e dell'intera giunta. Una contrarietà diffusa per i non interventi a favore dello sviluppo, per il silenzio su tanti argomenti e sui modi ambigui e contraddittori con cui si affrontano le vertenze. Annunciano così un periodo di forte mobilitazione, a cominciare dalla protesta di giovedì 9 ottobre davanti alla sede della giunta a Campobasso. Noi lo avevamo già detto nei mesi scorsi, che se non avessimo avuto risposte concrete ai tanti problemi e alle tante vertenze aperte sul territorio, problemi e vertenze che hanno dato luogo alla grande manifestazione del 28 giugno scorso, avevamo detto che se non avessimo avuto risposte saremo tornati a mobilitarci. Siamo a questo. Siccome non abbiamo avuto risposte, torneremo a mobilitarci sui problemi che abbiamo sollevato nel 28 giugno. Dall'area di crisi, su cui noi ci siamo impegnati molto, abbiamo sottoscritto un'intesa tra le istituzioni e le parti sociali, ma di cui non sappiamo più nulla. Dalla vertenza della GAM, sappiamo di un imprenditore privato, ma non siamo stati mai chiamati a discutere, né i lavoratori sono stati informati e quei lavoratori alla fine di ottobre finiranno la cassa integrazione ordinaria, bisognerà attivare le procedure per la cassa integrazione straordinaria. E allora è decisivo capire il piano industriale che si prospetta, le scelte che intende fare la Regione, e poi ci sono le tante vertenze aperte, dalle esattorie alla formazione professionale, alla protezione civile. Come si vede sono tantissimi problemi aperti che aspettano una risposta. Non si può aspettare oltre, questa è la ragione per cui giovedì della prossima settimana saremo sotto la Regione con delegazioni di lavoratori e lavoratrici di queste realtà in grande difficoltà.